Terza decina. L'eccellenza del Santo Rosario nella meditazione della vita e della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Rosa ventunesima. I quindici misteri del Rosario. Cosa sacra che difficilmente si può comprendere è un mistero. Le opere di Cristo Gesù sono tutte sacre e divine perché Egli è uomo e Dio insieme. Quelle della Vergine sono santissime perché Ella è la più perfetta fra tutte le pure creature. Bene a ragione le opere di Gesù e della Sua Santa Madre sono dette misteri perché sono ricolme delle innumerevoli meraviglie, perfezioni, delle sublimi e profonde istruzioni che lo Spirito Santo rivela agli umili e ai semplici che le apprezzano. Queste opere di Gesù e di Maria possono essere chiamate fiori stupendi, il profumo e la bellezza dei quali sono noti soltanto a coloro che si avvicinano ad essi, ne aspirano la fragranza e ne aprono la corolla con un'attenta e seria meditazione. San Domenico distribuì la vita di nostro Signore e della Vergine Santa in quindici misteri che ci presentano le loro virtù e le loro principali azioni. Sono quindici quadri le cui scene ci devono servire di regola e di guida nel nostro modo di vivere. Quindici fiaccole per far luce ai nostri passi in questo mondo. Quindici specchi luminosi adatti per conoscere Gesù e Maria, per conoscere noi stessi e per accendere nel nostro cuore il fuoco del loro amore. Quindici fornaci per consumarci totalmente nelle loro celesti fiamme. Fu la Madonna di insegnare a San Domenico questo eccellente modo di pregare quando gli ordinò di predicarlo per risvegliare la pietà dei cristiani e per far rivivere nei cuori l'amore per Gesù Cristo. L'insegnò anche al Beato all'anno della rupe. La recita di 150 Ave Maria è una preghiera molto utile, gli aveva detto, ed è un omaggio che gradisco immensamente. E questa recita del saluto angelico mi piace ancora di più se coloro che la praticano vi uniranno alla meditazione della vita, della passione e della gloria di Gesù Cristo, poiché tale meditazione è l'anima di questa preghiera. Infatti, senza la meditazione dei sacri misteri della nostra redenzione, il rosario sarebbe quasi come un corpo senza anima, una materia eccellente priva di forma, poiché è proprio la meditazione che distingue il rosario dalle altre devozioni. La prima parte del rosario contiene cinque misteri. Il primo è l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine, il secondo è la visitazione di Maria a Santa Elisabetta, il terzo è la nascita di Gesù Cristo, il quarto è la presentazione del bambino Gesù al Tempio e la purificazione della Santa Vergine. Il quinto è il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori. Si chiamano gaudiosi questi misteri a causa della gioia che recarono all'universo intero. La Vergine Santa e gli angeli furono inondati di gioia nel felice istante in cui il Figlio di Dio si incarnò. Santa Elisabetta e San Giovanni Battista furono ripieni di gioia per la visita di Gesù e di Maria. Il cielo e la si rallegrarono alla nascita del Salvatore. Simeone fu consolato e ripieno di Letizia quando ricevette Gesù fra le braccia. I dottori erano rapiti di ammirazione nell'ascoltare le risposte di Gesù e chi saprà esprimere lo gioia di Maria e di Giuseppe nel ritrovare Gesù dopo tre giorni di assenza. La seconda parte del Rosario si compone anch'essa di cinque misteri, detti misteri dolorosi, perché ci presentano Gesù oppresso dalla tristezza, coperto di piaghe, carico di obrobri, di dolori e di tormenti. Il primo di tali misteri è la preghiera di Gesù e la sua agonia nel giardino degli olivi. Il secondo la sua flagellazione. Il terzo la sua incoronazione di spine. Il quarto la salita di Gesù al Calvario, carico dalla croce. Il quinto la sua crocifissione e morte sul Calvario. La terza parte del Rosario contiene cinque altri misteri detti gloriosi, perché in essi contempliamo Gesù e Maria nel trionfo e nella gloria. Il primo è la risurrezione di Cristo Gesù. Il secondo la sua ascensione al cielo. Il terzo la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli. Il quarto l'assunzione della gloriosa Vergine Maria. Il quinto la sua incoronazione. Sono questi i quindici fiori profumati del rosetto mistico sui quali le anime pie amano soffermarsi come api sagge per coglierne il succo mirabile e come porre il miele di una solida devozione. Rosa ventiduesima. La meditazione dei misteri ci rende conformi a Gesù. Precipio a cura dell'anima cristiana è di tendere alla perfezione. Fatevi dunque imitatori di Dio quali figli carissimi. Efesini 5, 1. Ci dice il grande apostolo. È un obbligo questo contenuto nell'eterno decreto della nostra predestinazione, essendo l'unico mezzo ordinato per giungere alla gloria eterna. San Gregorio Nisseno dice graziosamente che noi siamo dei pittori. L'anima nostra è la tela preparata su cui passano i pennelli. Le virtù sono i colori che servono per dare risalto alla bellezza dell'originale da riprodurre, Gesù Cristo. Immagine viva e rappresentazione perfetta dell'eterno padre. Come dunque un pittore per eseguire il ritratto dal vero si pone davanti all'originale ed a ogni pennellata lo osserva, così il cristiano deve sempre tenere presente la vita e le virtù di Gesù Cristo per dire pensare e fare soltanto ciò che è conforme ad esse. Per aiutarci nell'importante opera della nostra predestinazione, la Vergine Santa ordinò a San Domenico di esporre ai devoti del rosario i sacri misteri della vita di Gesù Cristo, non soltanto perché adorino e glorificano nostro Signore, ma soprattutto perché regolano la loro vita sulle opere e virtù di Lui. Come i bambini, infatti, imitano i loro genitori osservandoli e conversando con loro e ne imparano il modo di esprimersi ascoltandoli parlare. Come un apprendista impara l'arte guardando lavorare il maestro, così fedeli con fratelli del rosario, meditando devotamente le virtù di Gesù Cristo nei quindici misteri della sua vita, diventano somiglianti al Divino Maestro con l'aiuto della sua grazia e per l'intercessione della Vergine Santa. Se Mosè ordinò al popolo ebreo da parte di Dio stesso di non dimenticare mai i benefici di cui l'aveva colmato, con maggior ragione il Figlio di Dio può comandarci di imprimere nel nostro cuore e di avere costantemente davanti agli occhi i misteri della sua vita, passione e gloria, poiché questi sono altrettanti benefici dei quali ci favorì e con i quali ci mostrò l'eccesso del suo amore per la nostra salvezza. Voi tutti che passate per la via, ci dice, considerate e osservate se ci sono dolori simili ai dolori che io ho sofferto per amor vostro. Ricordatevi della mia povertà e del mio nientamento. Pensate all'assenzio e al fiele che presi per voi nella mia passione. Queste parole e molte altre che si potrebbero ricordare convincono abbastanza dell'obbligo che abbiamo di non contentarci di recitare vocalmente il rosario in onore di Cristo Gesù e della Vergine Santa, ma di recitarlo meditando nei sacri misteri. Rosa ventitresima Il rosario, memoriale della vita e della morte di Gesù Gesù, il divino sposo dell'anima nostra, l'amico dolcissimo, desidera che ricordiamo i suoi benefici e li stimiamo sopra ogni cosa. Egli prova una gioia sovrabbondante, come la Vergine e tutti i Santi del Paradiso, quando noi meditiamo meditiamo devotamente e con affetto i misteri del rosario, che sono gli effetti più evidenti del suo amore per noi e i doni più ricchi che egli potesse fare, poiché è proprio per tali doni che la Vergine stessa e tutti i Santi godono della gloria eterna. La beata Angela da Foligno un giorno pregò Nostro Signore che le insegnasse con quale esercizio avrebbe potuto onorarlo meglio. E Gesù le apparve appeso alla croce e le disse Figlia mia, osserva le mie piaghe. E così ella apprese dall'amabilissimo Salvatore, che nulla gli era più gradito quanto la meditazione sulle sue sofferenze. Poi Gesù le mostrò le ferite del capo, le rivelò parecchi particolari di tormenti patiti e soggiunse Tutto questo ho sofferto per la tua salvezza, che cosa puoi fare tu che uguali il mio amore per te? Il santo sacrificio della Messa onora infinitamente la Santissima Trinità perché è rappresentazione della passione di Gesù Cristo ed è offerta da parte nostra dei meriti della sua obbedienza, delle sofferenze e del suo sangue. L'intera corte celeste ne riceve anch'essa sovrabbondanza di gloria. Parecchi autori con Sant'Ommaso ci parlano per lo stesso motivo della gioia degli angeli nel vedere i fedeli accostarsi alla comunione, sia perché il Santissimo Sacramento è il memoriale della passione della morte di Cristo Gesù, sia perché con tale mezzo gli uomini partecipano ai frutti della redenzione e assicurano la propria salvezza. Ora, il Santo Rosario, recitato con la meditazione dei misteri, è un sacrificio di lode a Dio per il beneficio della nostra redenzione. È un devoto ricordo della sofferenza, della morte e della gloria di Gesù Cristo. E' vero, perciò che il Rosario dà gloria e gioia di sovrabbondanza a Gesù Cristo, alla Vergine Santa e a tutti i beati, poiché essi nulla desiderano di più importante per la nostra felicità eterna che vederci impegnati in un esercizio tanto glorioso per il nostro Salvatore e tanto salutare per noi. Il Vangelo ci assicura che un peccatore che si converte e fa penitenza procura gioia a tutti gli angeli. Se per rallegrare gli angeli basta che un peccatore lasci le vie del peccato e ne faccia penitenza, quale gioia, quale giubilo sarà per l'intera corte celeste, quale gloria per Gesù stesso vederci qui in terra meditare devotamente e con amore le sue umiliazioni, i suoi tormenti, la sua morte crudele e ignominiosa? Vi può essere forse qualcosa di più efficace per commuoverci e indurci a sincera penitenza? Il cristiano che non medita sui misteri del Rosario dà prova di molta ingratitudine verso Cristo Gesù e rivela ad avere poca stima per quanto il Divino Salvatore ha sofferto per la salvezza del mondo. Il suo contegno sembra dire che egli ignora la vita di Gesù, che si preoccupa ben poco di sapere ciò che fece Gesù e sofferse per redimerci. Un tale cristiano deve temere assai che, non avendo conosciuto Gesù Cristo o avendolo dimenticato, egli lo respinga nel giorno del giudizio con quel rimprovero «In verità ti dico, non ti conosco» Matteo 25, 12 Meditiamo dunque la vita e le sofferenze del Salvatore nel Santo Rosario. Impariamo a conoscerlo bene, a riconoscere i suoi benefici, affinché egli ci riconosca per i suoi figli e amici nel giorno del giudizio. Rosa XXIV La meditazione dei misteri del Rosario, grande mezzo di perfezione I santi facevano oggetto principale di studio, la vita di Gesù Cristo, e ne meditavano le virtù e i patimenti. È così che giunsero alla perfezione cristiana. San Bernardo incominciò da tale esercizio e vi perseverò sempre e fedelmente. Dall'inizio della mia conversione, egli dice «Io feci un mazzetto di mirra, composto dei dolori del mio Salvatore, e me lo posi sul cuore, pensando ai flagelli, alle spine e ai chiodi della passione, e impegnandomi con tutto l'animo a meditare ogni giorno su questi misteri». Questo era anche l'esercizio dei martiri. Noi ammiriamo il modo con cui seppero trionfare dei più crudeli tormenti. Ma d'onde poteva venire, osserva San Bernardo, l'ammirabile costanza dei martiri se non dalle piaghe di Gesù Cristo, sulle quali essi frequentemente meditavano? Dove era l'anima di questi generosi atleti quando il loro sangue colava e i loro corpi erano straziati dai supplizi, se non nelle piaghe di Gesù Cristo? E quelle piaghe li rese invincibili. Anche la Santissima Madre del Salvatore meditò durante tutta la sua vita sulle virtù e le sofferenze del figlio. Quando alla nascita di lui udì gli angeli cantare l'inno di gioia, quando vide i pastori adorarlo nella stalla, la sua anima, rapita di ammirazione, meditava su tutte quelle meraviglie. Ella paragonava le grandezze del verbo incarnato al suo profondo abbassamento, la paglia e la mangiatoia col trono e il seno del padre, la potenza di Dio con la debolezza di un bambino, la sapienza di lui con la semplicità. La Vergine disse un giorno a Santa Brigida, Quando contemplavo la bellezza, la modestia e la sapienza di mio figlio, l'anima mia era fuori di sé per la gioia, e quando consideravo le sue mani e i suoi piedi, che sarebbero stati trafiti dai chiodi, versavo copiose lacrime e il cuore mi si spezzava per la tristezza e il dolore. Dopo l'ascensione di Gesù, la Madonna trascorse il resto della vita nel visitare i luoghi santificati dal Salvatore con la sua presenza e i suoi tormenti, e Ivi meditava sull'eccesso della sua carità e sui rigori della passione. Lo stesso esercizio fece Santa Maria Maddalena nei trent'anni che visse solitaria nella grotta della Sainte-Beum. San Gironamo dice che questa era anche la devozione dei primi fedeli. Da tutti i paesi del mondo, egli scrive, venivano in terra santa per imprimersi più profondamente nel cuore l'amore e il ricordo del Salvatore degli uomini, alla vista degli oggetti e dei luoghi consacrati dalla nascita, dalle fatiche, dalle sofferenze e dalla morte di lui. Tutti i cristiani hanno una sola fede, adorano un solo Dio, sperano la stessa felicità nel cielo. Tutti conoscono un solo Mediatore, Gesù Cristo. Tutti, dunque, devono imitare questo divino modello e perciò considerare i misteri della sua vita, delle virtù e della sua gloria. È un errore credere che la meditazione delle verità della fede e dei misteri della vita di Gesù sia solo per i sacerdoti, i religiosi e per coloro che si sono ritirati dai fastidi del mondo. Se i religiosi e gli ecclesiastici hanno l'obbligo di meditare sulle grandi verità della nostra santa religione perché rispondano degnamente alla loro vocazione, i secolari vi sono altrettanto obbligati a causa dei pericoli di perdersi nei quali si trovano ogni giorno. Devono perciò armarsi del ricordo assiduo della vita, delle virtù e delle sofferenze del Salvatore che i quindici misteri del Rosario presentano. Nessuno mai potrà comprendere i tesori mirabili di santificazione contenuti nelle preghiere e nei misteri del Rosario. La meditazione dei misteri della vita e della morte di nostro Signore Gesù Cristo è sorgente dei più meravigliosi frutti per chi vi si applica. Oggi si vogliono cose che colpiscano, che commuovano, che producono nell'animo impressioni profonde. Ma esiste mai al mondo una storia più commovente di quella stupenda del Redentore che si dispiega al nostro sguardo in quindici quadri che ricordano le grandi scene della vita, morte, glorie del Salvatore del mondo? Quali preghiere sono più eccellenti e più sublimi dell'orazione domenicale e dell'Ave dell'Angelo? In esse sono racchiusi tutti i nostri desideri, tutti i nostri bisogni. La meditazione dei misteri e delle preghiere del Rosario è la più facile fra tutte le orazioni poiché la varietà delle virtù e degli stati di Gesù su cui a mano a mano si riflette ricrea e fortifica in modo ineffabile lo spirito e impedisce le distrazioni. I sapienti trovano in queste formule la dottrina più elevata, i semplici le istruzioni più familiari. Prima di elevarsi a grado più sublime della contemplazione bisogna passare per questa facile meditazione. Tale è il pensiero di Santo Maso d'Aquino. È il consiglio che gli suggerisce quando dice che bisogna prima allenarsi come in un campo di battaglia con l'acquisto di tutte le virtù di cui abbiamo il modello perfetto nei misteri del Santo Rosario. È infatti proprio in quella meditazione, dice il dotto Cayetano, che otterremo l'intima unione con Dio senza la quale la contemplazione è soltanto un'illusione capace di sedurre le anime. Se i falsi illuminati dei nostri giorni i quietisti avessero seguito questo consiglio non avrebbero subito tante vergognose cadute né causato tanti scandali. È singolare illusione del demonio credere che esistano preghiere più sublime del pater e dell'ave e abbandonare queste preghiere divine che sono sostegno, forze e custode dell'anima. Convengo che non sempre è necessario recitarle vocalmente e che la preghiera interiore è in un certo senso più perfetta della vocale ma vi assicuro che è molto pericoloso per non dire dannoso abbandonare di propria iniziativa la recita del Rosario col pretesto di una più perfetta unione con Dio. L'anima, sottilmente orgogliosa ingannata dal demonio meridiano si sforza, quanto le è possibile per elevarsi interiormente al grado sublime dell'orazione dei santi disprezza e trascura perciò i tradizionali metodi di preghiera che giudica buoni solo per le anime ordinarie chiude dal sé medesima l'orecchio al saluto di un angelo e perfino la preghiera composta da Dio e da Lui praticata e comandata. Voi pregarete così Padre nostro Matteo 6,9 Elmonfort pone in nota il testo seguente di Santa Caterina da Siena Rivelazioni Chiunque giusto peccatore ricorre a lei con devoto rispetto non sarà mai né deluso né divorato dal demonio dell'inferno e in tal modo cade da illusione in illusione da precipizio in precipizio Credimi caro confratello del rosario vuoi tu arrivare a un alto grado di orazione senza affettazioni e senza i pericoli di cadere nelle illusioni del demonio tanto comuni nelle persone pie? Recita tutti i giorni se puoi il rosario intero o almeno una parte può darsi che per grazia di Dio ci sei già arrivato allora se vuoi restarci e progredire nell'umiltà conserva la pratica del santo rosario un'anima fedele alla recita quotidiana del rosario infatti non sarà mai formalmente eretica né potrà essere ingannata dal demonio è questa un'affermazione che sottoscriverei con il mio sangue se poi Dio per sua misericordia ti attira a te mentre dici il rosario tanto potentemente come fece con alcuni santi lasciati pur attirare abbandonati a lui lascia che egli operi e preghi in te e a modo suo reciti in te il rosario e questo ti sarà sufficiente per la giornata se invece sei solamente nella contemplazione attiva o orazione ordinaria di quiete di presenza di Dio e di affetto allora hai ancora meno motivo di tralasciare il rosario poiché ben lontano dal farti retrocedere nell'orazione e nella virtù esso ti sarà di meraviglioso aiuto vera scala di Giacobbe dai 15 gradini per i quali salirai di virtù in virtù di chiarezza in chiarezza e giungerai facilmente senza illusioni fino alla pienezza dell'età di Gesù Cristo guardati bene da limitare l'ostinazione di quella pia persona di Roma di cui si parla nelle meraviglie del rosario era costei tanto devota e tanto fervorosa da confondere con la sua santa vita i religiosi più austeri della chiesa di Dio un giorno volle consultare San Domenico ed essendosi perciò confessata da lui questi le impose come penitenza la recita di un solo rosario e la consigliò anche di recitarlo ogni giorno immediatamente lei prese a scusarsi aveva i suoi esercizi tutti ben regolati acquistava ogni giorno l'indulgenza delle stazioni di Roma portava sempre il cilicio si dava la disciplina più volte nella settimana faceva tanti digiuni ed altre penitenze San Domenico la esortò con esistenza a seguire il suo consiglio ma lei non ne volle sapere uscì dal confessionale quasi scandalizzata dal modo di procedere di quel nuovo direttore che la voleva persuadere ad accettare una devozione contraria al suo gusto qualche tempo dopo stando in preghiera e rapita in estasi ella vede la sua anima obbligata a comparire davanti al supremo giudice San Michele mette su un piatto dalla bilancia tutte le sue penitenze e preghiere e sull'altro i suoi peccati e le sue imperfezioni poi alza la bilancia ed ecco il piatto delle buone opere sale sale e non può fare da contrappeso al piatto dei peccati e delle imperfezioni angosciata ella implora misericordia e si rivolge alla Vergine Santa sua avvocata la quale lascia cadere su un piatto delle buone opere l'unico rosario che aveva recitato per penitenza questo è tanto pesante da stabilire l'equilibrio tra i peccati e le buone opere in pari tempo la Vergine la rimprovera per essersi rifiutata di seguire il consiglio del suo servo Domenico di recitare ogni giorno il santo rosario ritornate in sé la piadonna andò a gettarsi ai piedi di San Domenico e raccontato quanto le era accaduto gli chiese perdono per l'incredulità e promise di recitare il rosario tutti i giorni giunse così alla perfezione cristiana e la gloria eterna o anime d'orazione imparate da questo fatto quanto sia efficace preziosa e importante la pratica del santo rosario con la meditazione dei misteri chi fu più elevata nell'orazione di Santa Maddalena che sette volte al giorno era trasportata dagli angeli al di sopra del San Pilon e che era stata alla scuola di Gesù e della santa sua madre eppure un giorno è la chiesa Dio un mezzo efficace per avanzare nell'amore per lui e giungere alla più alta perfezione l'arcangelo Michele le disse da parte di Dio di non conoscerne altro che quello di considerare i misteri dolorosi che l'aveva già visto svolgersi sotto i propri occhi ai piedi della croce che egli aveva piantato davanti alla grotta dove lei era rifugiata l'esempio di San Francesco di Sal il grande direttore di anime spirituali del suo tempo possa risolvervi a far parte della confraternita così santa del rosario santo com'era egli si obbligò con vuoto a recitarlo per intero ogni giorno della sua vita anche San Carlo Borromeo lo recitava tutti i giorni e lo raccomandava con insistenza ai suoi sacerdoti ai chierici del seminario e a tutto il popolo il beato Pio V uno dei più grandi pontifici che governarono la chiesa recitava ogni giorno il rosario San Tommaso da Villanova arcivesco di Valenza Sant'Ignazio San Francesco Saverio San Francesco Borgia Santa Teresa San Filippo Neri e molti altri illustri personaggi che non nomino si distinsero in questa devozione seguitene l'esempio i vostri direttori spirituali saranno soddisfatti e se ne informerete dei frutti che ne avrete ricavato saranno essi stessi primi a consigliarvelo Rosa ventisettesima per invogliarti ancor più ad abbracciare questa devozione delle anime grandi aggiungo che il rosario recitato con la meditazione dei misteri primo ci leva insensibilmente alla perfetta conoscenza di Gesù Cristo secondo purifica le anime nostre dal peccato terzo ci rende vittoriosi su tutti i nostri nemici quarto ci facilita la pratica delle virtù quinto ci infiamma d'amore per Gesù sesto ci arricchisce di grazie e di meriti settimo ci fornisce i mezzi per pagare a Dio e agli uomini tutti i nostri debiti e infine ci ottiene ogni sorta di grazie la conoscenza di Gesù Cristo è la scienza dei cristiani la scienza della salvezza supera in eccellenza e in pregio dice San Paolo tutte le scienze umane per la dignità per la dignità dell'oggetto un Dio uomo al cospetto del quale l'universo intero non è che una stile di rugiada o un granello di sabbia per l'utilità poiché le scienze umane ci riempiono solo di vanità e del fumo d'orgoglio per la sua necessità poiché non è possibile salvarsi senza la conoscenza di Gesù Cristo mentre chi ignora tutte le altre scienze ma è istruito nella scienza di Cristo Gesù sarà salvo benedetto rosario che ci dai questa scienza e conoscenza di Gesù facendocene meditare la vita la morte la passione e la gloria la regina di Saba ammirata per la saggezza di Salomone esclamò beati i tuoi uomini beati questi tuoi ministri che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza primo re 10 8 ma più felici sono i fedeli che meditano attentamente la vita le virtù le sofferenze e la gloria del Salvatore perché acquistano con tale mezzo la perfetta conoscenza di Lui nella quale consiste la vita eterna la Vergine Santa rivelò al Beato Lano che non appena San Domenico presa a predicare il Rosario i peccatori più induriti si commossero e piazzero amaramente le loro colpe perfino i giovanetti fecero delle incredibili penitenze ovunque predicava il Rosario il fervore era tanto grande che i peccatori cambiarono vita edificando tutti con le penitenze e l'emendamento della loro vita se quindi ti senti la coscienza gravata di colpe prendi la corona e recita una parte del Rosario in onore di qualche mistero della vita della passione o della gloria di Gesù e sii convinto che mentre mediterai ed onorerai questi misteri egli mostrerà al Padre Celeste le sue sacre piaghe e intercederà per te e ti otterrà la contrizione e il perdono dei peccati disse un giorno il nostro signore albiato Alano se questi poveri peccatori recitassero spesso il mio Rosario parteciperebbero ai meriti della mia passione ed io come loro avvocato placerei la divina giustizia la vita dell'uomo è una guerra ed una tentazione continua noi dobbiamo lottare non con i nemici di carne e di sangue ma contro le potenze stesse dell'inferno Efesini 6 12 Efesini 6 1 1 Quali armi migliori impugneremo noi allora se non la preghiera insegnateci dal nostro grande capitano e il saluto angelico che scacciò i demoni distrusse il peccato e rinnovò il mondo se non la meditazione della vita della passione di Cristo Gesù del pensiero della quale ci dobbiamo armare come ordine a San Pietro per difenderci dagli stessi nemici che gli vinse e che ci assalgono ogni giorno da quando il demonio fu vinto dall'umiltà e dalla passione di Gesù Cristo scrive il cardinale non può quasi più attaccare un'anima che sia armata dalla meditazione di questi misteri e se l'attacca ne è ignominiosamente vinto rivestitevi dunque dell'armatura di Dio impugnate quest'arma di Dio il santo rosario e schiaccerete il capo al demonio resisterete a tutte le tentazioni certamente è per questo motivo che anche la semplice corona materiale fa tanta paura al diavolo e i santi se ne sono spesso serviti per incatenarlo e scacciarlo dal corpo degli ossessi come attestano molti fatti un tale narra il beato Alano avendo tentato inutilmente ogni pratica devota per essere liberato dallo spirito maligno che lo persudeva pensò di mettersi al collo la corona del rosario ne ebbe sollievo constatando poi che quando se la toglieva il demonio riprendeva a tormentarlo crudelmente decise di portarla al collo giorno e notte in tal modo gli riuscì di scacciare per sempre il diavolo che non poteva sopportare quell'orribile catena il beato Alano assicura inoltre di avere egli stesso liberato molti ossessi ponendo loro al collo la corona il padre Giovanni Amat domenicano predicava il quaresimale in una contrada del regno d'Aragona un giorno gli fu presentata una giovanetta posseduta dal demonio e gli tentò più volte di esorcizzarla ma non ottenendo alcun risultato le pose al collo la propria corona del rosario immediatamente la fanciulla dette in smagne e in urla spaventose via via questi grani gridava che mi tormentano toglietemeli per compassione verso la povera figliola il padre gliela tolse la notte seguente mentre questi riposava gli stessi demoni che possedevano la giovane s'avventarono rabbiosamente su di lui per impadronirsi della sua persona egli però con la corona che teneva stretta in mano nonostante gli sforzi che quelli facevano per strappagliala li flagellò con l'energia e li mise in fuga con la ripetuta invocazione Santa Maria Nostra Signore del Rosario aiutami l'indomani mentre si recava in chiesa si imbantè con l'infelice giovanetta tuttora posseduta dai demoni uno di questi gli disse burlandosi di lui frate se tu non avesse avuto la corona ti avremmo conciato per le feste il padre allora gettò di nuovo la corona al collo della giovinetta dicendo per i sagratissimi nomi di Gesù e di Maria sua madre e per la virtù del Santo Rosario io vi comando o maligni spiriti di uscire subito da questo corpo i diavoli furono costretti ad obbedire all'istante e la ragazza fu liberata questi fatti dimostrano quanto sia la forza del Santo Rosario per vincere ogni tentazione del demonio ed ogni pericolo di peccato perché i grani benedetti della corona lo mettono in fuga Rosa ventottesima Sant'Agostino assicura che non vi è esercizio tanto fruttuoso e utile per la salvezza quanto il pensare di frequente alle sofferenze di Nostro Signore il beato Alberto Magno maestro di San Tommaso seppe per rivelazione che il semplice ricordo ossia la meditazione della passione di Gesù è più meritoria per il cristiano che digiunare a pane ed acqua ogni venerdì per un intero anno o disciplinarsi a sangue ogni settimana o recitare ogni giorno il salterio quale sarà dunque il merito del rosario che ci ricorda tutta la vita e la passione di Nostro Signore la Madonna rivelò un giorno al beato l'anno della rupe che dopo il santo sacrificio della messa la prima e più viva commemorazione della passione di Nostro Signore non vi è devozione più eccellente e più meritoria del rosario il quale è come un secondo memoriale e una rappresentazione della vita e della passione di Gesù il padre Dorland riferisce che la Vergine Santa disse un giorno al venerabile Domenico certosino devotissimo del rosario residente a Treviri nel 1481 ogni volta che un fedele recita in stato di grazia nel rosario meditando i misteri della vita e della passione di Gesù ottiene piena e totale remissione dei suoi peccati anche al beato Alano ella disse sappi che sebbene siano già numerose le indulgenze concesse al mio rosario io ne aggiungerò molte altre per ogni 50 Ave Maria in favore di quanti le reciteranno in stato di grazia e devotamente in ginocchio a chi avrà perseverato nella recita del rosario in quelle condizioni e meditando nei 15 misteri otterrò al termine della sua vita come ricompensa del buon servizio che gli siano pienamente rimesse e la colpa e le piene di tutte le sue manchevolezze tutto ciò non ti sembra incredibile poiché è facile per me che sono la madre del re dei cieli di colui che mi chiama la piena di grazia se infatti nessuno ricolma posso distribuirne con abbondanza ai miei cari figli San Domenico era tanto convinto dell'efficacia del merito del rosario che non imponeva quasi mai altra penitenza a chi si confessava da lui se non quella di recitarlo come abbiamo visto più sopra quando riferimmo di quella donna romana alla quale diede per penitenza un solo rosario i confessori anch'essi se vogliono seguire l'esempio del grande santo dovrebbero imporre ai loro penitenti il rosario con la meditazione dei misteri invece di altre penitenze che non sono così meritorie né così gradite a Dio e neppure tanto profittevole alle anime per farle avanzare in virtù o tanto efficaci per impedire loro di ricadere nel peccato senza dire poi che recitando il rosario si lucrono numerose indulgenze non annesse a molte altre devozioni dice l'abbato l'abbate Blosio sicuramente il rosario con la meditazione della vita e della passione di nostro signore è graditissimo a Gesù e alla Vergine ed è molto efficace per ottenere ogni grazia perciò lo possiamo recitare per noi stessi o per coloro che a noi si raccomandano o anche per tutta la chiesa ricorriamo dunque la devozione del rosario in ogni nostra necessità ed otterremo senza dubbio quanto avremo richiesto a Dio in ordine alla nostra salvezza Rosa ventinovesima secondo San Dionigi nulla di più divino di più nobile di più gradito a Dio quanto il cooperare alla salvezza delle anime e rovesciare i perfidi piani del demonio che tutto mette in opera per perderle questo fu il motivo per cui il figlio di Dio scese sulla terra egli fondando la chiesa aveva distrutto il dominio di Satana purtroppo questo tiranno aveva ripreso forza esercitando crudele violenza sulle anime come si vide per esempio nel secolo undicesimo quando sorse l'eresia degli albigesi con tutti gli odi le contese i vizi più abominevoli che egli gli riuscì di far regnare nel mondo quale è il rimedio a questi grandi disordini come abbattere la forza di Satana la Madonna protettrice della chiesa per calmare la collera del figlio per estirpare l'eresia e riformare i costumi dei cristiani offerse come il mezzo più efficace la confraternita del rosario e i fatti lo provarono la carità si ravvivò la frequenza sacrimenti ritornò come nei primi secoli d'oro della chiesa ed i costumi dei cristiani si riformarono dice Papa Leone X nella sua bolla nel 4 ottobre 1520 che questa confraternita fu fondata ad onore di Dio e di Maria come un baluardo per stornare le sciagure che stavano per abbattersi sulla chiesa e Gregorio XIII afferma che il rosario fu dato dal cielo come un mezzo per calmare la collera divina ed implorare l'intercessione della Vergine Santa Giulio III aggiunge che il rosario fu ispirato per aprirci più facilmente il cielo grazie alla intercessione della Madonna Paolo III e il Beato Pio V dichiararono che il rosario fu stabilito e dato ai fedeli perché potessero procurarsi in modo più efficiente il riposo e la consolazione spirituale che dunque potrà trascurare di iscriversi a una confraternita istituita per così nobili intenti un giorno padre Domenico Certosino molto devoto del rosario vide il cielo aperto e tutta la corte celeste disposta in mirabile ordine e odì cantare con dolcissima melodia il rosario mentre si onorava ad ogni decina un mistero della vita della passione e della gloria di Gesù e della Madonna egli notò che al santo nome di Maria tutti i beati inchinavano il capo e a quello di Gesù genuflettevano e ringraziavano Dio per i grandi benefici largiti in cielo e in terra in virtù del rosario vide pure la Vergine e i Santi presentare a Dio i rosari che i confratelli recitavano sulla terra e pregavano per tutti quelli che praticano questa devozione vide ancora innumerevoli corone di splendidi e profumati fiori preparate per chi recita con devozione il rosario le corone che essi medesimi stanno intessendo per esserne adorni in cielo la visione del più certosino ricorda la visione del discepolo prediletto che vide una moltitudine stragrande di angeli e di santi intenti a lodare e a benedire il nostro Signore per quanto aveva fatto e sofferto per la nostra salvezza ebbene non è questo che fanno anche i confratelli del rosario non è da credere che il rosario sia buono soltanto per le donne per i piccoli e per gli ignoranti esso è buono altresì per gli uomini e tra essi per i più ragguardevoli non appena San Domenico ebbe riferito a Papa Innocenzo III l'ordine ricevuto dal cielo di istituire questa confraternita il pontefice approvò ed esortò il santo a predicarla anzi volle farne parte egli stesso e con lui diedero il proprio nome entusiasticamente gli stessi cardinali tanto che Lopez non esitò a dire nessun sesso nessuna età nessuna condizione sociale si è potuta sottrarre alla devozione del rosario sono infatti iscritti in questa confraternita persone di ogni categoria duchi principi re prelati cardinali sommi pontifici troppo lungo sarebbe numerarli perciò caro lettore se entrerai in questa confraternita parteciperai alla loro devozione alle loro grazie qui in terra e alla loro gloria in cielo associato con loro nella devozione avrà in comune anche la dignità rosa trentesima se i privilegi i favori e le indulgenze rendono raccomandabile una confraternita si deve dire che quella del rosario è la più raccomandabile nella chiesa perché è la meglio dotata di indulgenze dalla sua istituzione in poi quasi tutti i papi hanno fatto prelievi dal tesoro della chiesa per arricchirla e poiché l'esempio persuade più delle parole degli stessi favori essi testimoniarono la stima in cui tenevano la confraternita dando ad essa il proprio nome ecco un breve compendio delle indulgenze accordate dai sommi pontifici alla confraternita indulgenze confermate nuovamente dal santo padre dell'innocenzo undicesimo il 31 luglio 1679 e comunicate col permesso di pubblicarle all'arcivescovo di Parigi il 25 settembre dello stesso anno indulgenza plenaria nel giorno dell'iscrizione indulgenza plenaria in punto di morte indulgenza parziale di dieci anni e dieci quarantene per ciascuna delle tre corone indulgenza parziale di sette giorni ogni volta che gli associati pronunceranno devotamente il nome di Gesù e di Maria indulgenza parziale di sette anni e sette quarantene a coloro che assisteranno con pietà alla processione del rosario indulgenza plenaria nella prima domenica del mese e nelle feste di nostro signore e della madonna quanti veramente pentiti e confessati visiteranno la cappella del rosario nella chiesa a sede della confraternita indulgenza parziale di cento giorni e presenti al canto della salve regina indulgenza parziale di cento giorni a coloro che con devozione e allo scopo di darne l'esempio portano visibilmente la corona indulgenza plenaria nei giorni indicati per lucrarla ai confratelli ammalati o impediti di recarsi in chiesa che confessati e comunicati reciteranno in giornate il rosario o almeno una parte per un insegno e speciale favore verso i confratelli del rosario i suoi pontifici danno loro possibilità di lucrare le indulgenze delle chiese stazionali di Roma con la semplice visita a cinque altari recitando davanti ciascuno di essi cinque pater e cinque ave per il bene della chiesa qualora nella chiesa sedia della confraternita vi fossero solo uno o due altari potranno recitare i venticinque pater e ave davanti a quelli gran favore quest'ultimo per i confratelli poiché nelle chiese stazionali di Roma si lucrano indulgenze plenari in suffragio delle anime del purgatorio e si ottengono tante remissioni che essi possono acquistare senza fatica senza spese e senza neppure uscire dal proprio paese che se la confraternita non esistesse là dove essi dimorano potrebbero ugualmente acquistare le predette indulgenze stando alla concessione di Leone X con la visita a cinque altari in qualsiasi chiesa i giorni stabiliti e determinati per coloro che risiedono fuori Roma nei quali i confratelli possono lucrare queste indulgenze secondo il decreto della Sacra Congregazione per le indulgenze approvato dal Santo Padre il 7 marzo 1678 purché le condizioni siano esattamente osservate sono tutte le domeniche di avvento i tre giorni delle quattro tempora di avvento la vigilia di Natale alla Messa della Notte dell'Aurora e del giorno di Natale la festività di Santo Stefano di San Giovanni Evangelista dei Santi Innocenti della Circoncisione e dell'Epifania le tre domeniche prima della Quaresima dal giorno delle Ceneri alla domenica in Albis inclusa i tre giorni delle erogazioni il giorno dell'Ascensione la vigilia di Pentecoste e tutti i giorni dell'Ottava i tre giorni delle quattro tempora di Settembre caro confratello del Rosario vi sono altre innumerevoli indulgenze se le vuoi conoscere leggi il sommario delle indulgenze accordate ai confratelli dove troverai pure i nomi dei papi che le allargirono l'anno della concessione e diversi particolari che non è possibile qui riferire in compendio di Pentecoste di Pentecoste